Contenimento delle spese e ricerca di un accordo per le mensilità di marzo e aprile con i tesserati. Le questioni aperte in Casa Teramo sono tante, a partire da quelle risposte del territorio che Iachini cerca e che non sembrano ancora essere davvero concrete. Dunque, in attesa di sviluppi, è il quotidiano a tenere banco con le questioni relative soprattutto alle uscite degli elementi considerati non più centrali nel progetto Bianco-Rosso, Arrigoni e Costa Ferreira. Il primo doveva rappresentare nell'ottica di Bruno Tedino il principale costruttore di una manovra che il diavolo voleva prevalentemente per sé, ma complice anche l'annata opaca dell'intera squadra, l'ex Lecce non ha reso come probabilmente ci si aspettava. Il problema attuale che riguarda la dirigenza sono i due anni di contratto che restano alla centrocampista, che è un accordo, fino al 2022. Bisognerebbe dunque trovare un acquirente, ma il mercato, complice soprattutto l'uscita dall'emergenza ancora in essere, e in fase di stallo. Costa Ferreira invece rappresentò, non più tardi di 12 mesi fa, il fiore all'occhiello di una campagna acquisti faraonica da parte della nuova dirigenza. Ma il tempo corso per averlo in piena forma e la complicata collocazione all'interno dello scacchiere del diavolo, in aggiunta ad un contratto importante, lo collocano naturalmente tra quei giocatori dei quali, volendo, si può fare a meno. Ed in questa prima fase, senza cessioni, margini di manovra per muoversi in entrata ce ne sono pochi, ed è per questo che i due direttori, Iaconi e Federico, avranno un surplus di lavoro. Considerati anche i ritorni da Carpi, Alessandria, Di Cianci e Martignago, per i quali andrà fatta, dopo il prestito, una valutazione, se tenerli e concedere loro un'altra possibilità, o provare anche in questo caso a trovare un compratore. Chi non dovrebbe essere riscattato a proposito di attacco, invece, è Simone Magnaghi. Alta, troppo alta la richiesta del Pordenone, pattuita l'anno scorso per strappare il diritto di riscatto ad un giocatore arrivato in prestito dal club nero-verde. Ecco che, di conseguenza, senza qualcosa che si muova in senso positivo da una parte o dall'altra, il semaforo per le trattative è ancora tendente al corone rosso. Ma questa estate particolare, almeno si spera, può portare novità che rilancino ancora il progetto del diavolo.